Le donazioni del 5 per 1000 relative all'anno 2014 non fruttano l'atteso tesoretto per le società d'eccellenza Liguri, ben lontane dall'Expluat fatto registrare in Calabria dalla Palmese serie di Gironei, con i suoi oltre 80.000 euro di bonus. Il Ventimiglia è infatti l'unica squadra da andare in quadrupla cifra, con un importo ricevuto di 2.071,18 centesimi giunti da 41 diversi contribuenti. Medaglia d'argento all'Angelo Baiardo sostenuto da 30 soggetti e fruitore di 964,38 euro. Sul gradino più basso del podio infine troviamo la Voltrese, per il sodalizio giallo-blu l'attivo è di 819,09 euro grazie alla generosità presumibilmente di 15 aficionados. Gli ultimi due club a segno sono il Riva Samba con 485,40 euro e il Genova Calcio ho scelto da soli due donatori per un incasso complessivo di 51,27 euro.